la squadra da battere o la squadra che avrebbe dovuto vincerla. Nel momento in cui sembrava fosse una squadra in decadenza è riuscita finalmente a vincerla e questo è un po' il paradosso del calcio ed è anche il bello del calcio, come diceva Pocanzi e un tuo collega molte volte non sempre i più forti vincono, però l'anno scorso il Chelsea in effetti non era il più forte ma hanno vinto meritatamente.